per l'esposizione delle opere appartenenti alla collezione Ruboli. Non sono solo opere Ruboli, ma qui abbiamo, giustamente per così ricreare questo contesto che riguarda la formazione di Paolo, la Ginori di doccia con questo, diciamo, bel piatto, l'ustro rubino con gusto femminile, secondo la tipologia rinascimentale della bella donna, la coppia di vasi all'ustro oro e questo interessante esemplare di vaso moresco all'ustro rubino. E poi andiamo a vedere due vasetti della Miliani di Fabriano perché ebbe contatti appunto anche con Fabriano e da Fabriano veniva appunto D'Aria Ruboli e qui abbiamo invece un'opera interessante della manifattura farina di Achille Farina di Faenza dove aveva lavorato il Pieri, Marino Pieri, questo, diciamo, estroso e interessante personaggio, artista e augubino che girò varie manifatture applicando la sua formula speciale per i lustri metallici. E qui cominciamo come prima opera, abbiamo un servizio da piatti in terraia con la serie degli imperatori romani. Naturalmente non è così sistematica, abbiamo da Cesare Augusto fino agli ultimi, diciamo, imperatori tardi e poi diciamo che l'aspetto, soprattutto questi barbi piuttosto coscienteschi non sono proprio in linea con la tipologia, insomma, degli imperatori romani. E il provo è Paolo Rupoli e Marco Aurelio è il discepolo, Giuseppe Discepoli, un sottore che lavorò così costantemente con la manifattura che firmò i calefri piani di domani al comune, si guarda occupatati o no, ad indicare le virtù, di omestà e di abilità di Paolo Rupoli. E qui vediamo la serie dei piatti da tocca, è il caso di Sofernazzi su questo esemplare che è proprio una copia molto fedele del teatro di Mastro Corco Andreoli. E qui vedete, i piatti, diciamo, rispondono a, così, una scelta di Mastro Corco Andreoli. Questa composizione è vecchia, è nobitaria, ed altri vittori che collaborano con l'Olimpo. E ora qui passiamo alla fase di riprendere la stessa mitologia di Paolo, che è molto bello il piatto con Olimpo. Potete riconoscere una differenza della dominante romantica un po' zucroniola che, diciamo, stabilisce la differenza con i piatti di Paolo. e qui abbiamo la serie delle belle donne. E' stato, abbiamo, insomma, deciso, per quanto riguarda l'attribuzione di questa figura, insomma, che è stata con la maestria, all'esordiente, a Fredo Sanzarelli, che stabilirà sicuramente il, diciamo, il camostini, l'editanza, la manufattura, un guadese molto importante, che però si svilupperà nel corso del novecento. Continuiamo con un servizio da tempi da riavuto e altri oggetti più posto curiosi, interessanti, anche di costruzionale. Grazie. 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 Grazie.